Il Sudafrica è diverso. Perché il tuo viaggio in Sudafrica non sarà una semplice visita. Sarà un vero e proprio incontro. Incontrerai le immense spiagge della Wild Costa e i discendenti di antichi popoli che vissero per migliaia di anni sulle colline del fiume Guanyana. Incontrerai un tassista e la regina delle Shibin che rimarranno nei tuoi ricordi. Farai un'indimenticabile passeggiata notturna nella savana e ti sembrerà di vedere le stelle per la prima volta. E tu al ritorno dal Sudafrica non sarai più la stessa persona. Perché incontrando il Sudafrica scoprirai che qui non c'è nulla, ma proprio nulla di ordinario. E tu al ritorno dal Sudafrica non sarai più la stessa persona. E tu al ritorno dal Sudafrica non sarai più la stessa persona.